siamo tutti pop star un concerto rock e uno strano segnale siria era stata particolarmente insistente e adan non seppe dirle di no ti prego andiamo al concerto di siri milus in questo momento è la pop star più acclamata di antia deve tre che piacerà anche a te adan non amava quelle adunate oceaniche di milioni di persone per una serie di motivi non ultimo l'elevato livello di rischio per l'incolumità personale che comportavano ma forzato da tanta insistenza accettò il mega concerto si teneva alla arena della liberazione una piazza immensa capace di contenere fino a 10 milioni di umani nelle adunate oceaniche che venivano organizzate per celebrare le ricorrenze istituzionali più importanti vi giunsero con un certo anticipo siria era incontenibile siri è l'emblema stesso della trasgressione un simbolo per tutti i giovani della nostra colonia i teenager impazziscono per lei nessun altro cantante rock riesce a trascinare le masse a quel grado di entusiasmo i mass media la celebrano e nonostante la giovanissima età ha fatto una carriera sconvolgente in brevissimo tempo ne avevo sentito parlare non tanto per le doti canore semmai proprio per i comportamenti trasgressivi adan aveva ben compreso che le pop star erano funzionali alla colonia in quanto modelli di ruolo per i più giovani personaggi drogati alcolizzati dediti ad ogni trasgressione servivano a incentivare analoghi comportamenti che portavano alla più completa assoluta incoscienza un metodo non certo l'unico per istupidire e sottomettere la popolazione vedrai che anche tu sarai entusiasta ne sono certa quando siria si metteva in testa qualcosa era impossibile farle cambiare idea e questo non era un grande segno di intelligenza secondo lui l'arena stava lentamente riempiendosi molti vi giungevano già ubriachi mentre le noti ancora basse mimavano il pulsare del sangue penetrando nel corpo di ciascuno il livello di attenzione della folla iniziava a calare per i più iniziava la trans collettiva adan cercava di dirigere la ragazza verso l'angolo della piazza dove avrebbero avuto le spalle protette la pressione dei corpi ammassati uno sull'altro iniziava a crescere se tutta quella carne umana avesse perso il controllo sarebbe stato impossibile resisterle la stampede avrebbe travolto tutto e tutti un individuo alto dal viso affilato e segaligno gli occhietti avidi e rapaci la bocca senza labbra atteggiata in un sorriso incerto li stava osservando l'abito non usuale l'atteggiamento lo identificavano appartenere alla casta degli alati siria sembra imbarazzata scusami un attimo devo salutare un amico si staccò da adan e scansando ventri dilatati e glutei ipertrofici si avvicinò al rapace adan li osservava mentre si scambiavano un abbraccio e alcune effusioni non poteva ascoltare le loro parole ma l'atteggiamento lasciava intuire una particolare intimità i loro discorsi proseguirono a lungo troppo a giudizio di adan accompagnati da sguardi e carezze non proprio amicali era natanna solo un amico siria sembra imbarazzata lavora nel mainstream media come giornalista lo chiamano trompeta per il suo stile di presentazione a mitraglia intanto lo spettacolo stava per iniziare il tambureggiare assordante della musica tribale rese impossibile continuare qualsiasi discorso adan era tutto tranne che sciocco ma non fece commenti alcuni gruppi locali stavano scaldando l'atmosfera luci laser sciabolava nel cielo fino alla volta della colonia alcol droga musica ossessiva stavano facendo il loro effetto la folla ondeggiava come ipnotizzata stava perdendo ogni consapevolezza adan stesso faceva fatica a rimanere lucido mentre cercava di proteggere siria oramai quasi in trance da spinte scossoni anche la folla fa perdere il controllo di sé la lucidità l'individuo viene annientato e la sua mente si fonde con quella di tutti gli altri rendendo questa moltitudine un unico super organismo facilissimo da controllare parole al vento siri siri vogliamo siri oramai anche siria era andata finalmente la star uscì alla ribalta in una esplosione di fumi luci musiche e l'urlo della folla era giovanissima e seminuda si mostrò nelle pose più oscene prese a canticchiare una filastrocca che accennava pratiche sessuali le scenografie richiamavano riti orgiastici e satanici i ballerini avevano piccole corne in fronte e una breve coda caprina lei sembrava offrirsi e ritirarsi allo stesso tempo alzando ad ogni istante il calore della manifestazione prese a masturbarsi oscenamente mandando la massa sempre più in preda all'alcol e alla droga in delirio molti tra giovanissimi del pubblico presero ad imitarla la musica era solo un pretesto un sottofondo ipnotico per perdere ogni controllo di sé il momento saliente era rappresentato dalla indiscussa capacità di siri dello squirting e anche stavolta non delusa i suoi fans non è straordinaria è meravigliosa esclamava siria di quando in quando in attesa di una conferma di adan che non riusciva a ottenere lo spettacolo andò avanti così per due ore tra fellazio praticate ai ballerini e accoppiamenti omosessuali per concludersi al culmine dell'isteria con una gang bang dal corpo di ballo mentre siri si concedeva ad una doppia penetrazione stanchi eforici e svuotati gli spettatori si accingevano a lasciare l'arena non avere fretta aspettiamo che i più se ne siano andati furono parole profetiche perché era quasi impossibile scorrere e le uscite troppo strette rallentavano il flusso di tutta quella carne umana i più deboli finirono calpestati e il bilancio dei morti fu altissimo aspettarono a lungo capisci adesso perché tutti parlano di lei e le nostre stesse istituzioni sono orgogliose di questa grande artista capisco perfettamente fu la laconica risposta abbandonarono l'arena tra milioni di bottiglie di cerveza vuote siringhe vomito piscio e cadaveri mentre gruppetti qua e là ancora non soddisfatti si sfidavano in risse sanguinose una bella trappola che unita ad un regime di terrore rendeva gli impuri già poveri e disperati anche miserabili perdendo nei propri escrementi le ultime briciole di umanità sulla porta di casa lei lo invitò dolcemente sali da me per un poco quel concerto mi ha messo un certo non so che un'altra volta siria adesso sono stanco e ho ancora molto da fare dal branco alla supercolonia le vicende di una specie dalla irrefrenabile espansione demografica qualcosa non era andato nel verso giusto forse le aeromobili che disperdevano nanoparticelle di metalli pesanti nell'atmosfera avevano ecceduto nella quantità oppure stavano facendo nuovi esperimenti nessuno poteva sapere per certo si scatenò la furia degli elementi venti fortissimi spazzavano le basse piantagioni di soia e spezzavano gli alti steli del mais mentre a pochi chilometri di distanza si stavo formando un tornado dalle dimensioni preoccupanti per questo il lavoro degli impuri fu fermato per qualche ora adana e noa si sedettero sulle balle appena riempite come procedono le tue scoperte hai trovato altre cose interessanti quel laptop è una miniera di informazioni spalanca le porte del passato della nostra storia cosa accadde 300 anni fa lo hai capito come ti dissi il passaggio da un'economia di primati a quella delle formiche portò lo sviluppo sempre più incontenibile della popolazione noa lo capiva perfettamente più cibo uguale più fertilità lo avevano già osservato coltivando i batteri in provetta in soluzione sterile rimangono lo stesso numero per anni basta aggiungere una goccia di glucosio cibo e in poche ore sono milioni il tornado si era spostato sul loro rifugio nonostante le massicce pareti blindate potevano sentire l'ululato del vento e le lamiere di velte che sbattevano l'una contro l'altra un gruppetto di impuri aveva tirato fuori qualche lattina di cervezza introdotta di contrabbando e tutti cominciavano ad essere su di giri brutti sdentati obesi ridevano sguaiatamente per certe storie di femmine disgrazie che evidentemente suscitavano grande ilarità un brusio che disturbava i discorsi dei due amici e li costrinse ad alcune considerazioni non lusinghiere sulla miseria umana di conseguenza si impose un nuovo tipo di società più vasta e più difficile da gestire in ogni animale la società è basata sulla condivisione e sulla solidarietà perché questo avvenga deve esserci il riconoscimento tra gli individui che la compongono con i grandi numeri la conoscenza personale era impossibile così si introdussero leggi per disciplinarne i comportamenti privazione di libertà autentici atti di violenza che disattendere portava a rischiare pene severe tutto questo in nome di un valore astratto e scarsamente comprensibile il bene comune niente di nuovo accade ancora adesso mano a mano che il numero degli umani cresceva diveniva sempre più difficile controllarli troppo diverse le individualità le etnie le culture le credenze i valori quando il nostro numero superò i 6 miliardi inizia un secolo drammatico nel quale si lavorò ferocemente per distruggere ogni individualità si cercò di omologare l'intera economia mondiale con migrazioni forzose di massa si instaurò il meticciato vennero organizzati nuovi ruoli e generi distrutta la famiglia credenze e valori essere diverso divenne reato una colpa da punire fu omologato il pensiero e con leggi liberticide si introdusse late speech l'espressione d'odio che consentiva di colpire ogni idea dissonante tutti i mezzi furono utilizzati per raggiungere questo obiettivo mass media cultura leggi polizia repressione la grande mescolanza coinvolse ogni essere umano nel cibo nel corpo nel pensiero persino nell'anima adesso che tutti erano uguali potevano riconoscersi riconoscersi nel nulla noa sospirò fu allora che l'uomo perse l'anima vero ogni vivente che respira l'aria di questo pianeta viva nel sole o strisci nelle tenebre a un'anima l'anima è la vita stessa se hai cultura sensibilità e consapevolezza puoi curare la tua anima da solo ma per la più parte della nostra specie semplice grezza incolta inconsapevole il rapporto con l'anima è mediato dalla religione distruggendo la religione si è distrutto il tramite tra l'uomo e la sua anima sostituendolo con la falsa scienza e con la cultura della morte successo predazione soldi potere a spese dei propri simili e del pianeta stesso così una specie oramai dannata incerta intimorita angosciata è divenuta ancora più facile preda dell'elite avide e spietate che l'hanno usata e ci stanno usando per i loro folli sogni di ricchezza e predominio il cibo miserabile distrusse la salute e rese tutti deboli e inefficienti si servirono di farmaci vaccini di sostanze chimiche introdotte nel cibo nell'acqua nell'aria per rendere sterili e annientare la volontà mentre cultura educazione informazione completavano l'opera un vasto orizzonte si stava aprendo adana e noa condivisero il fatto che nonostante il numero da una parte e la volontà elitaria dall'altra stessero cambiando l'esistenza del genere umano anche se rimaneva il dna originario i cromosomi dei primati emersi nella savana sette milioni di anni prima che non accettavano questa nuova realtà da qui frustrazioni disperazione e sofferenza all'inizio tutto questo non mi era molto chiaro mi chiedevo perché ci si fosse spinti a tanto poi ho trovato un altro documento scritto proprio nel periodo di massima follia si chiama ce l'ho qui l'ho appuntato super colonies of billions of invasive ant what is associated lo scrisse un entromologo un certo mark moffet moffet sottolineò come ogni società animale si modifichi in funzione del numero e per sussistere si basi sul riconoscimento degli altri membri la più parte dei vertebrati mammiferi come una volta la nostra specie forma società individuali ristrette basate sulla identità di ciascun componente un antropologo evoluzionista robin dunbar aveva dimostrato qualche anno prima che il numero di rapporti sociali sostenibili dagli umani è 150 oltre il nostro cervello non è in grado di conoscere veramente la persona e pensa per stereotipi quando il numero cresce la conoscenza individuale diviene impossibile si parla di società anonime dove il riconoscimento avviene per caste ciascuna con una propria funzione specifica così funzionano le colonie delle formiche caste di operaie guerriere maschi fertili e regine esattamente come noi adesso stessa economia quindi stessa società così l'individuo ha cessato di esistere per divenire cellula funzionale di un super organismo la colonia appunto si deve inoltre mantenere il segnale di riconoscimento che non sarà più individuale ma della specie le formiche usano secrezioni di idrocarburi prodotte dall'esoscheletro puzzette in un certo senso noi abbiamo i biochip solo così si governa una colonia solo così 35 miliardi di umani sono gestibili io sono unico adanto tu sei unico siamo errori di laboratorio come mi dicesti tu fino dall'inizio ricordi fossili di un passato che non esiste più invisi ai potenti irrisi dai nostri pari rimasero ambedue col dubbio che tutto questo fosse avvenuto per circostanze fortuite oppure se 13 mila anni prima qualcuno avesse preso spunto proprio dalle formiche per domesticare il genere umano una domanda destinata a rimanere senza risposta il tornado si stava placando e i miliziani iniziarono a sospingere di nuovo gli impuri verso le piantagioni un ruolo fondamentale si capì presto l'avrebbe giocato un ormone il testosterone il sesso vuoi dire non esattamente questo ormone possiede una straordinaria influenza sociale la produzione elevata induce nell'individuo la supremazia la dominance quando scarseggia viceversa porta ad essere creduloni sottomessi passivi e codardi è fondamentale per la salute e l'energia è l'ormone della potenza fisica riproduttiva e creativa fecero di tutto per castrarci distruggendo il ruolo naturale dell'uomo col cibo con l'inquinamento ambientale con lo stato etico che decide anche i comportamenti individuali con l'azzeramento del genere maschile a favore di figure neutre ambigue e inconsistenti la fertilità maschile subì analoga sorte